Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. La famiglia Grimaldi di nuovo al centro dell'attenzione, ormai c'è la conferma, lei si è innamorata di una donna. Ecco che cosa viene fuori dall'armadio misterioso della famiglia più chiacchierata del mondo reale. Stefani di Monaco, dopo anni arriva una clamorosa conferma, Stefani di Monaco è la terzogenita del sovrano Ranieri, terzo di Monaco e della compianta Grace Kelly. Lei che rispetto ai fratelli ha avuto sempre un carattere più esuberante e peperino, ha dato non poco filo da torcere ai componenti della famiglia Grimaldi. Ha avuto una vita sentimentale molto avventurosa e ancora tutt'oggi continua a far parlare di sé. A differenza di Alberto che è sempre stato posato e con le idee ben chiare, proiettato sul bene del Principato e Carolina che ancora tutt'oggi è un pilastro fondamentale per Monaco e la famiglia Grimaldi, Stefani ha avuto un ruolo rilevante per la monarchia monegasca ma altrettanto importante è il suo vissuto privato sempre piazzato sulle prime pagine dei tabloide nazionali e internazionali. A questo proposito, spunta fuori un segreto della famiglia Grimaldi tenuto nascosto fino ad ora. Dopo anni viene fuori la verità, lei si è innamorata di una donna. Amore saffico, spunta fuori la verità tenuta nascosta per tanto tempo. Ha avuto una relazione con una donna, ha perso la testa per lei. Protagonista di Un Curioso Segreto è la mamma di Stefani di Monaco, la compianta Grace Kelly. Famosa attrice e protagonista del cinema internazionale, ha avuto un passato sentimentale davvero turbolento. Spuntano fuori però soltanto adesso dei dettagli immaginabili che fanno emergere una immagine nuova e inaspettata della principessa dagli occhi di ghiaccio. Secondo quanto riportato da diversi tabloide nazionali e internazionali, prima di convolare a nozze con Ranieri III, Grace Kelly ha avuto tantissimi flirt e storie importanti come uomini famosi e meno famosi e persino sposati e padri di famiglia. Tra i suoi amori del passato c'è anche una donna, una studentessa con cui ha avuto un flirt romantico prima di perdere la testa per il suo professore, Don Richardson. Grace Kelly e questa donna avrebbero avuto una relazione durata solo pochi mesi. Fu proprio questa studentessa a introdurre, nel periodo in cui frequentava il college, la futura regina, nel mondo della moda. Un mestiere, quello da modella, grazie al quale iniziò poi a calcare le passerelle del mondo diventando uno dei volti noti delle sfilate dei marchi di moda più importanti del tempo. La lista degli amanti di Grace Kelly è davvero lunga, le sue relazioni amorose terminarono solo quando i suoi occhi di ghiaccio incontrano poi quelli penetranti del sovrano di Monaco. Il loro amore da favola è durato tanti anni ma si è interrotto bruscamente a causa del terribile incidente che ha strappato alla vita terrena l'amatissima principessa di Monaco. Era il 1982 quando Grace Kelly muore per alcune importanti fratture riportate al femore, al torace e al cervello. Stefani di Monaco era insieme a lei il giorno dell'incidente ma fortunatamente è riuscita a salvarsi. Drammi e verità nascoste sul conto della compianta principessa di Monaco stanno spuntando fuori come funghi. Chi lo avrebbe mai detto? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente.